Tante novità seppure in via embrionale caratterizzano la 121esima edizione della Canta Maggio Ternano. Torna la suddivisione della città in Rioni ed ognuno di questi concorrerà con un carro. Castello con Canta Magico, Adultrini con Nascampata per la Pace, Di Sotto con E Maggio canterà sempre L'Amore, Fabri con Riciclo e Recupero, Rigoni con L'Amore de Maggio ed infine Amingoni con E l'Italia dei Giovani volerà ancora. La sfilata partirà da Piazza Bruno Buozzi per poi proseguire lungo via Mazzini, Piazza Tacito, Corso Tacito, Piazza della Repubblica, Piazza Europa per poi concludersi a Piazza Ridolfi. Tra i secarri in concorso ci saranno quattro minicarri. Ad aprire la sfilata del Trenta Sera ci saranno il Re e la Regina del Maggio, l'esibizione di Lucilla Galeazzi dedicata alle operaie dello storico Iutificio Centurini mentre a chiudere il carro gastronomico dell'Uriaccio. La 121esima è l'edizione delle novità embrionali si è detto e allora eccone altre due. Saranno in vendita le sciarpe del Cantamaggio e ad affiancare la giuria degli esperti ci sarà quella popolare. Lungo il percorso saranno presenti dei banchetti dove, previa offerta, le persone potranno votare il carro preferito. La proclamazione del vincitore con la consegna del Panno del Maggio e l'Arburitto 2017 avverrà il primo maggio a Piazza Ridolfi in occasione della seconda sfilata. Come sempre abbinata ai carri ci sono le canzoni dei gruppi Maggiaioli che si contenderanno il successo al settimo concorso canzoni in dialetto ternano Giuseppe Capiato. A proposito di musica, il presidente dell'ente Cantamaggio, Omero Ferranti, ha accolto così la notizia che il prossimo anno potrà nascere una collaborazione niente meno che con Umbria Jazz. Noi siamo aperti e molto ben disposti a ragionare per fare, diciamo, con Umbria Jazz e comunque con i soggetti a costruire delle sinergie perché possa davvero ri-identificarsi il Maggio e il Cantamaggio con i cittadini in maniera molto più alta.